E' troppo morbido. Deve essere morbido. Questo è il punto. No? Signora, le faccio provare questo fisiologi. Si mette nella posizione esatta in cui dormi di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito, a cucchiaino. No, grazie, veramente. Senti, decidi tu, eh. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi un uomo? E ti porto il caffelletto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita, la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta. Ma goditi un pochino sta libertà che c'hai. Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Qual è spazio? Lo sai, non ci vedo, vai. Non vedi, non ci senti, mi pare da sta Goanna dei miracoli. Ho incontrato una persona. Non ho una donna. Posso sapere da quanto tempo a me racconti parla. Non puoi stare con te. Perché come stai? Ognuna vi ne manca un pezzo. Tu ti vergogni? Ancora. Io ho bisogno di capire. Tu sei l'unica persona importante per me. Io ho con te imparato un sacco di cose. Beh, vediamo la puntata, siamo indietro. Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore. Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore.